Se la relazione dell'assessore incorpora anche la risposta a interrogazione non ce ne siamo accorti, ci dobbiamo dichiarare assolutamente insoddisfatti, è inaccettabile che su domande puntuali ogni volta si risponda con altre cose. C'è un problema, si sta parlando di un'opera strategica per tutta la regione e non si hanno notizie certe e dettagliate in particolare sui costi, oltre che sull'aspetto dei fondali, perché lì abbiamo assistito a dichiarazioni direi surrealistiche, perché a Bruxelles il governatore Rossi ha dichiarato addirittura fondali da 22 metri, sulla stampa se non facciamo fondali da 20 metri ritiro il finanziamento della regione toscana, come se tra l'altro i soldi fossero suoi, chiusa la parentesi. Mi chiedo, ma davvero volete affrontare queste questioni così strategiche con questa superficialità? Per noi è inaccettabile, va bene sotto elezioni, ce lo aspettiamo, una strumentalizzazione, sparate di numeri, ormai siamo abituati a queste cose, ma non su queste infrastrutture così strategiche. È inaccettabile che si vada, o meglio si racconti, di andare a raccogliere consensi, finanziatori in un contesto europeo senza portarsi dietro il sindaco di Livorno. E dopo il mio collega farà una precisazione su questo, è inaccettabile. Inaccettabile perché vuol dire essere anche, non avere l'idea di come funziona la finanza internazionale, forse Borghi ci farà luce su questa cosa, ma se io già mi presento in partenza, con le istituzioni spaccate, come faccio? Con che credibilità posso pensare di ottenere il massimo risultato? Chi investe in queste infrastrutture, i fondi di investimento sta ben attento ai contesti territoriali di dove dovranno eventualmente essere fatte queste opere. È inaccettabile la mancanza di strategia della regione toscana. L'Algeria, leggo, che ha fatto un piano economico, un piano industriale del proprio paese che prevede una diminuzione delle importazioni del meno 12% all'anno. Questa è fare strategia, ogni anno loro importano meno 12% delle merci. E guarda a casa stanno andando a comprare porti in giro e stanno andando a fare porti in giro. Allora, visto che dobbiamo affrontare la questione con uno sguardo strategico che guarda il Mediterraneo, che guarda l'Europa, mi chiedo dov'è questa strategia? Dov'è l'interesse dei toscani dell'Italia con questo tipo di progetto, con questo tipo di modalità di portare avanti il progetto? È inaccettabile, e ripeto, è inaccettabile questa confusione sui costi, su chi ci mette i soldi, su effettivamente quanto costa l'opera, chi sono i players, direbbero, chi sono i soggetti ai quali ci rivolgiamo. Strategicamente abbiamo individuato un project financing, è questa la soluzione migliore strategica? Per noi no. Se fossimo stati noi del governo della regione mai avremmo scelto di affrontare questo tipo di investimento, questa infrastruttura con una finanza di progetto, dove andiamo a vincolare banchine per 50 anni. Ma di cosa stiamo parlando? Il mondo sta andando da un'altra parte, direi quasi dalla parte opposta. Allora noi chiediamo chiarezza, non ci fermeremo con questa interrogazione qua. È inaccettabile che su domande puntuali sempre non abbiamo risposte. Non è perché noi, l'ho detto anche in Commissione, non siamo insoddisfatti perché non sentiamo quello che vorremmo sentirci dire. Non è questo il punto. Siamo insoddisfatti perché non abbiamo le risposte. Anche su domande chiuse, sì, no, non si risponde mai. Figuriamoci quando le facciamo aperte.